Hola, io sono Marcus Crohn e bentornati nella serie come diventare un Honeygrabber. Nell'ultima puntata abbiamo visto questo impiantozzo per la generazione di apicommon, di appola, hand cultivated, completamente automatizzata e abbiamo anche visto quest'altra cosa ma non ci interessa adesso. Quest'oggi trattiamo dell'automatismo base per diventare dei veri Honeygrabber e per di tutti quegli oggettini che ci serviranno nel corso della nostra avventura aposa. Dunque, 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 dunque. Abbiamo visto nella seconda puntata come creare degli automatismi, scusate stavo vomitando. In questo caso abbiamo creato un automatismo con un Redstone Unchained e un Diamond Pipe e in quest'altro con un più avanzato Apiarist Pipe che si fa con la Propolis. Voi dite, come ottengo la Propolis? Marcus? E Marcus risponde a breve, pazienza. Dunque, 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 quando avrete trovato un po' di api e le avrete infrosciate fino a farle diventare Cultivated, che sono le basi migliori che producono, scusatemi, sono l'ape base, diciamo, quindi non particolarizzata, che produce a un alto tasso di produzione. Quindi, 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 le puttizziamo qui dentro in questo impiantozzo. Inizialmente avremo l'impianto automatico con i Diamond Pipe che sono un po' ostici. Perché, perché, perché? Ogni volta dovrete cambiare il tipo di ape. Io vi consiglio di usarli soltanto quando non dovete cambiarla. Cioè, qui dentro metto le Cultivated da vita, allora uso i Diamond Pipe. Comunque, all'inizio dovrete usarli per forza. Restone Engine, il Wooden Transport Pipe prende, manda di qua. Per non far collegare e non far mischiare le cosacce, usiamo e un Cobblestone Pipe e, vicino adiacente, uno Stone Pipe. Così non si aggangiano. E qui l'uscita è tutto bloccato tranne il blu. Nel blu rimanda dentro le Principesse. Ragazzi, non mettetele qui, in altrimenti zompa tutto. E i droni della tazza, della tazza che ci interessa. Sbloccate soltanto il giallo, in questo caso. Quello che volete, nel senso che quando verrà prodotto qualcosa, un Comba ad esempio, di qua, fra questo tragitto, le apri e andranno di qua. E a voi serve comunque uno sbocco, una via d'uscita, che è questa. Quindi queste abozze faranno to, 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 fino ad andare qua e si andranno a... E tutto il resto, il Drop e i droni in eccesso, si andranno a accumulare di qua. Andiamo a vedere l'impianto in maniera un po' più avanzata. Questo qui è con degli Autarchy Gate per risparmiare spazio, ma comunque è equivalente. E qui ci sono gli Apiaris Pipe. In questo caso, la nostra... diciamo, il nostro da fare è molto più semplice. Perché possiamo cambiare l'ape a piacimento e non avremo mai nessun problema. Perché gli abbiamo detto? Ah, innanzitutto, questo, a differenza dei Diamond Pipe, risulta bloccata le uscite. Quindi tutto il resto, Closed, Closed, Closed. Non gli dobbiamo dire, bloccalo con un oggetto che non capiterà mai. Gli dobbiamo semplicemente lasciare Closed. E lui non andrà mai sul giallo, ad esempio. Quindi gli diciamo, alla stessa maniera, sul blu manda le abozze. E quindi ci mettiamo Any Bees. Mentre sul bianco, che non so perché con la Spax sembra grigio, in alto, gli diciamo Anything. Lui che fa? Arrivano gli oggetti. Se non sono api, le manda su. Se sono api, le preferisce mandare a destra. Ma se trova occupato, ad esempio, 64 droni, le manda su comunque. Perché abbiamo messo Anything. Se adesso abbiamo messo Item, tipo questo qui, purtroppo i droni ci si sdropperebbero. Ecco perché mettiamo Anything. Li mandiamo tutti qua sopra per evitare che si infrocino. Perché se la mandiamo di qua, con tutte le api, ci potrebbe ritrovare. Magari qui abbiamo messo una Cultivated e qui una Gumbon. Queste si mischiano. Invece questa è una zona di Farming, quindi vogliamo sempre le stesse api. Quindi mandiamo qua sopra e abbiamo messo degli Iron Transport Pipe che inviano tutte cose di qua. Perfetto. Allora, questo è il vostro primo step. Non è molto difficile. Lo lasciate lì ad operare, piano, 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 e avrete una produzione di comb. Io qui switcho, preferisco switchare sempre con un api Aris Pipe e dico, nel rosso manda i droni. Li voglio collezionare, poi vedremo perché. Quindi si collezionano qua dentro. Nel nero manda le principesse. Questa è una cosa molto importante. Ipotizzate che ci avete messo 30 anni e avete fatto l'ape dei vostri desideri. Non so quale sia. La mettete qua e patamim, patamim, patamem, vi sbagliate. Vi dimenticate di mettere una condizione. L'ape che fa sale su e magari qui ci avete messo un Void Pipe. Terrore. Oh mio Dio. Quindi che cosa facciamo? Mettiamo uno switch principesse e li mandiamo dentro una cassa. In questo caso non ho commesso nessun errore, fortunatamente. Adesso qui continua, ma noi inizialmente ci metteremo una chest dove gli manderemo tutto il resto. Quindi gli items, come in questo caso il giallo. Cioè, items. Ho tolto la creativa per dimostrarvi che sto subendo danno. E' l'effetto poison causatomi da queste bastardissime delle tropical. Le tropical possono, non sempre, poter crescere, anzi poter produrre in un clima come questo qui. Non per forza nella giungla. Ed hanno bisogno del vines. Eccolo qua. Mi raccomando, mettetelo a terra, altrimenti vi distrugge tutta la struttura. Io intanto sto per morire. Fortunatamente ho l'armatura e mi rimetto in creative. Perché vi consiglio assolutamente di farmare anche delle tropical. Sì, ho detto che le cultivated... Oh, qui ho toppato però. O forse non ce l'ho messa e basta. Che le cultivated producono più comb a minuto. Anzi no, a minuto. Ogni 14 minuti, una cosa del genere. Ovviamente potete incrementarli con i proven frame. O con gli altri frame che volete. Ovviamente quelli che aumentano la produzione. Niente chocolate. Quelli che abbiamo visto nella seconda puntata. Vi consiglio di mettere almeno due tropical a farmare. Tre sarebbe meglio. Perché? Perché le tropical, a differenza di tutte le api normali che abbiamo visto, producono un comb diverso e molto molto utile. Questo comb si chiama... Che sto con questa creativa spuzzolosa. Si chiama silky comb. Eccolo qua. Quindi comunque, vediamo in analisi il nostro impianto. Tutto il resto, che non sia droni e che non sia principeste, finisce sul giallo. Nel giallo, finisce... Dal giallo finisce tutto qui dentro, dentro questo hopper. E dentro questa centrifuga alimentata, che è un macchinario forestry, alimentata da energia bullcraft. Come avete potuto vedere, le silky propolis, se centrifugate, ci producono sempre un one comb. E talvolta, un... Propolis... Un silky propolis. Eccolo qua. Ta-da! Quindi, che qui ci arrivi il silky comb, qui ci arrivi il one comb, tutto verrà preso, inviato qua sopra e switchato. Switchato perché? Tutti gli oggetti, quindi tutto quello prodotto dalla centrifuga, magari voi avete messo qui l'ave della redstone, viene centrifugato l'excited... No, come si chiama? Il... Vabbè, il reston comb, e ve lo mando... Voi volete che si accumuli dentro questa cesta. Ben venga. Il biswax, che viene sempre, sempre, sempre prodotto. E... Questa propolis la vediamo dopo. E tutto il resto, voi volete che vada a squizzarsi. Cioè, l'one drop, quindi lo mandate in giù. Eccolo qui. One drop, sul nero. L'one drop si squizza, sempre lo squizzer è un... Un... Sì, un inventario. È un macchinario forestry, che va ad emmerge a all bullcraft. E da questo, otteniamo due cose. Otteniamo sempre, un certo quantitativo di one, one liquido, che possiamo tirar fuori con un waterproof, wooden pipe, oppure con un più pratico, liquiduct, attivato da un segnale redstone. Come potete vedere, stiamo mandando l'one dentro questa bellissima multi tank. Detto ciò, talvolta, l'one drop squizzato, ci produce una propolis. La propolis è davvero molto utile. Quindi noi che facciamo? La prendiamo da qui, la mandiamo qua sopra, e la nostra propolis si accumula. In primo luogo, e anzi, diciamo il più fondamentale, la propolis, si usa per, tatatin, tatatin, tataten, andiamo avanti, andiamo avanti, non ci interessi, per fare gli avi aris pipe, quindi dovete farmarne. Mettete a farmare tutti i silk che vi pare, tanto si ottiene, scusatemi, tutti i comb che vi pare, tanto si ottiene dall'one drop, che di solito quasi tutte le avi danno, anzi tutte le avi danno, che dico. Ok, abbiamo un altro switch, però abbiamo uno switch del, del silky propolis, ve lo ricordate che ho detto che era importante, farmare le tropical? Quindi, le tropical producono il silky comb, che viene centrifugato, e ci produce il silky propolis, che viene rimandato, questo è uno switch che blocca le uscite, di nuovo dentro la centrifuga. Perché? Perché? Perché la domenica mi lasci sempre solo, perché dentro la centrifuga, questo silky propolis ci produce, eccoli qua, delle silky, che verranno accumulate qui dentro, quindi abbiamo messo uno switch, sul, no scusatemi, perdonatemi, le silky me le mando direttamente qui, ok? Le silk wisp, chissà che cacchio significa. Perché le metto qui? Perché il carpenter, il nostro amico carpenter, è un po' stronzo, e purtroppo la bullcraft non riesce a infilarci le cose, e me le mette sempre qui sopra. Oddio, non ho provato a otturarglielo, vogliamo provare? Ma sì, il bello della diretta. Golden, vediamo un po'. Facciamo così, ok lo sta affando, vediamo. Sì, ok, perdonatemi, dovete otturare questo tubo qua, questo coso qua, e quindi magari lo fa anche, se li faccio così, vediamo. dai, eccolo, perfetto, perfetto, niente, otturategli qua sopra con qualche cosa, ok, 9 silk wisp, dentro al carpenter, alimentato da Mjoul, e, con una fornitura costante di acqua, in questo caso usiamo un acqua e use accumulator, ci danno, il woven silk, il woven silk, è davvero davvero utile, perché? perché messo a forma, diciamo, di armatura, quindi, in questo caso facciamo il busto, ma in questo caso facciamo le gambe, ci dona l'armatura del, del tizio aposo, che è davvero davvero faica, in realtà, non serve a una ceppola, tranne che a difendervi totalmente dagli attacchi delle api, e voi dite, eh, sì, vabbè, ma questi qui fanno soltanto veleno, ttt, ccc, non sono un grande problema, noi ragazzi ci stanno api che vi one shottano, ci stanno api che esplodono come i creeper, quindi, 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 occhio, guardate, io sono un tizio abbastanza nabbone, non ho la skin perché non ho internet, in questo momento, le silky stanno andando a germogliare di qua e di là, anzi, a impollinare di qua e di là, silky, 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 le silky, perché le chiamo silky se sono le tropical? E non mi vogliono picchiare, ste stronze, dai, sto in diretta, sto registrando, oh, non mi picchiano, ehi, picchiatemi, picchiatemi, dai, picchiami, 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 mi devi picchiare, oh, mi stanno picchiando, perfetto, poison, very good, adesso noi ci beviamo un, un bel bicchierozzo di latte, che però non si schia così, si schia così, si c'è anche l'ape del latte, si, si c'è anche l'ape del latte, vediamocelo, ok, thank you very much, e facciamo, 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 così, e adesso, non ci faranno un cassiopea di niente, ovviamente l'armatura col tempo si consumerà, ma comunque ha un grande, grande, una grande durabilità, bene, 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 quindi qui abbiamo detto, ci si accumula gli oggetti utili, e ci facciamo un apiaris pipe, infine, vediamo altri due oggettozzi, molto, molto interessanti, il primo, è l'apiaris chest, si fa con una chest, 5 comb qualsiasi, però devono essere della forest, e attenzione, quelli dell'extra beast, non vengono considerati, e un pezzo di glass, cosa fa questa chest? Ha 125 spazi, divisi in 5 pagine, piripi, 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 in cui potete mettere dentro le vostre api, e soprattutto, cosa molto più interessante, vi dice tutte le mutazioni che avete scoperto, e quante principesse, quanti droni, e quante queen, e quante specie avete scoperto, in una sorta di un repilogo, io, qui non ne ho ovviamente, 1573, soltanto ne ho, diciamo, farmate, ne ho ottenute, 1753, quindi è very very good, inizialmente, ovviamente, poi vedremo i macchinari più avanzati, infine, ancora, ancora, ancora più importante, che vi consiglio di fare, quindi di fare entrambi, uno lo tenete a casa, con le api più importanti, e quest'altro, ve lo portate appresso, è l'api aris backpack, si fa sempre, con un'api aris chest, lana lana, stick, e stringa tutto intorno, questo tizio, molto interessante, cosa fa? quando rompete un alveare, l'ape che viene droppata, sparisce, no, non è vero, entra qui dentro, tadam, che è praticamente la stessa identica chest, che abbiamo visto poc'anzi, però, portatile, ed è davvero, davvero comoda, tarati, quindi non avrete mai, l'inventario pieno di apozze, ovviamente prima o poi finisce, ma niente vi vieta, di conservarle qua dentro, farvene un altro, oppure farvi un ender punch, e mandarle dentro, al vostro bellissimo impianto, fornito vi da MK, la giù, bene bene bene, ovviamente, abbiamo visto quasi tutto, signori, questa parte, è fondamentale, e finisce qui, ora ora ora, non vi resta altro, che armarvi della vostra armatura, armarvi del vostro scoppolino, armarvi del vostro apiaris backpack, e andare in giro, a prendere un sacco di api, avete ottenuto, delle cultivate, e delle tropical, le avete messo a farmare, state ottenendo, un botto di miele, potete rifare, quando volete un'altra armatura, se vi si sarà consumata, e state, cominciando a diventare, degli one eye grabber, nella prossima puntata, vediamo finalmente, gli incroci fondamentali, e spero di riuscire, ad arrivare, all'alvearone, fantasticissimo, eccolo qua, ta da, ci vediamo presto, con una nuova puntata, di questa serie, davvero, davvero mielosa, ciao a tutti, att esordele, pikemi effetti, che viene da i vei, qui viene da i vei, qui viene da i vei, qui viene là, e per la nuova puntata, maggiungmente, rispettacare,